Starta le luminarie artistiche nella città di Agropoli. L'accensione delle luci si è tenuta sabato scorso, quando il sindaco Adamo Coppola, dal castello Angina Ragonese, ha premuto fisicamente l'interruttore, che ha attivato di fatto il vestito natalizio di luci e colori, che permarrà fino al prossimo 6 gennaio 2019. Ad esprimersi sull'argomento ai nostri microfoni è stato l'assessore del comune di Agropoli, Roberto Mutalipassi. Quest'anno abbiamo voluto anticipare un po' rispetto alle altre annalità, la vendita di natalizzi, per far sì che noi come amministrazione puntiamo molto su questo Natale. Il Natale è definito Natale delle meraviglie, è visto come un momento di rilancio per tutte le manifestazioni attrattive e che servono per far sì che Agropoli sia sempre di più un punto di richiamo, anche in questo periodo, per tutti i turisti che verranno e anche per i cittadini che stanno alle nostre periferie, che quindi possono trovare qui un punto di ritrovo per quanto riguarda il trascorso delle ore liete, per quanto riguarda queste festività di Natale.